Era un lavoro che avevamo in mente da tempo di fare, ringrazio chiaramente gli uffici, prima di tutti Luana Alessandrini che ha ottenuto con il progetto i finanziamenti dall'UNESCO, con il cofinanziamento del Comune, ma la dottoressa Mandolini e tutto il suo staff, quindi De Gostoli, De Angeli che hanno seguito i lavori e la ditta che l'ha realizzata. L'ha realizzata con una precisione, veramente con un'arte che dobbiamo continuare a coltivare perché le maestranze che hanno lavorato qui veramente hanno riportato all'originale la pavimentazione e non è stato un lavoro facile, un lavoro che ha permesso anche in tempi un po' più lunghi ma di salvaguardare una pianta importante che l'ha ditta, ha dovuto salvaguardare le radici che si erano introdotte in mezzo alla pavimentazione per salvaguardarle anche a fare un lavoro importante, insomma difficile e complesso, che con un po' più di tempo non è stato realizzato. Ringrazio l'impresa Paganelli che l'ha realizzata, ma le sue maestranze che veramente ho visto mentre erano impegnati nell'opera, veramente un lavoro certosino di recupero di tutti i mattoni è veramente un'opera d'arte, è un'opera di riqualificazione e di restauro, non è un lavoro edile, è un lavoro di restauro e questo dobbiamo continuare a farlo per mantenere la città patrimonio dell'umanità che come dico sempre non è dei cittadini di Urbino, solo dei cittadini di Urbino ma è di tutta l'umanità e quindi di tutto il mondo questa città.